e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità anzi una novità incredibile per quello che riguarda il futuro di fortnite si perché ragazzi solo otto giorni rimanenti prima del tanto atteso capitolo 2 di questa season 2 non si hanno molte informazioni abbiamo già visto l'evento che sta per arrivare evento chiamato oro abbiamo letto come nei forum e nei vari siti che parlano di fortnite ci siano un sacco di tesi per quello che dovrebbe tornare in questa season 2 ma nel video di oggi parleremo ragazzi delle news scoperte proprio da alcuni utenti non voglio dirvi molto adesso ne parliamo ragazzi ma parliamo anche dei 400 vbucks che vengono dati o meglio ridati da epic games vi dico come li potrete ottenere e ovviamente un bel po' di curiosità come va già vi anticipavo sulla nostra season 2 di questo capitolo numero 2 prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live dalle 8 alle 18 sulla piattaforma viola grazie mille ragazzi per la vostra compagnia per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13 e 30 prima la domandina ve la devo fare ci tengo tantissimo ragazzi a leggere i vostri commenti proprio qua sotto la domandina di oggi è un grande classico che non vi facevo da tanto quindi voglio sapere pensateci bene ma qual è la tua season preferita in assoluto di tutte quelle che hai fatto su fortnite ne ho viste tutte posso dire di averle viste tutte dalla prima ancora della prima fino ad oggi praticamente ci sono state cose incredibili in questo videogioco cose che non avrei mai pensato di vedere cose che vuoi umani non avrei mai pensato di vedere ma la mia preferita comunque rimane la season 3 mi è piaciuta veramente tanto lì sì che si sentiva ancora come la community cercava di trovare in mille modi per riuscire a vincere un battle royale non esageravano nelle costruzioni le armi erano più o meno bilanciate il pass battaglia mi è piaciuto molto così come l'evento che ci fu dimmi qual è invece la tua season preferita qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e non parte il coso e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere allora il primo argomento di oggi il messaggio quello che vi avevo già anticipato 400 vbucks potreste trovarli al prossimo login su fortnite da parte del vostro personaggio come è possibile che ci vengano dati è molto semplice non so se avete notato un bug che c'è stato in questi giorni sia per quanto riguarda il set di harley queen che per quello che riguarda il set delle due skin amore e odio zodi e maschera di ferro se non ricordo male i due nomi qual era questo bug semplicissimo se si acquistava il bundle completo era tutto ok ma il giorno dopo di nuovo ci diceva che si poteva acquistare qualcosa con 400 vbucks io l'ho fatto perché che cacchio mi sono dimenticato e in realtà non ci dava niente beh se l'avete fatto anche voi non preoccupatevi che epic games sta ridando i vbucks e quindi non li avete assolutamente persi e andiamo avanti con l'argomento più interessante di oggi ragazzi e qua torniamo indietro ragazzi e qua ho addirittura idea che molti di voi o comunque alcuni non sanno neanche di che cosa parla questa fotografia un lieve riassunto siamo nella season 5 dove fortnite era veramente ai massimi livelli per quanto riguarda l'entertainment l'intrattenimento mondiale da un giorno all'altro in mezzo al deserto spunta questa roba qua un gigantesco burger quindi ragazzi la mascotta ai tempi c'era ancora orcomondo greasy groove in inglese ora non mi ricordo il nome in italiano dove ovviamente c'era il ristorante del durburger da lì poi apparirono i primi rift insomma venne tolta all'insegna tante cose vecchie perché vi parlo di una roba successa ben più di un anno fa anzi oramai un anno e mezzo fa abbondante perché ragazzi forse non lo sapete ma se andate su google maps e cercate 15 160i ave sun llano ci ha che deve essere california 93544 vi appare esattamente il punto in cui era apparso il durburger con appunto come vedete là sotto due indicazioni sia su durburger che su greasy groove nessuno si era più preoccupato di questa location fino a pochissime ore fa dove se andiamo a vedere nella mappa satellitare beh voglio lasciare un attimo a voi quello che state vedendo praticamente in alto di là come vedete c'è il puntino rosso che è esattamente la posizione del durburger della season 5 ma guardate non vi sembra che quel disegno che c'è nel deserto sia abbastanza familiare a me sinceramente ricorda la parte centrale della season 9 barra season x la season 10 vi ricordate dove poi alla fine ci fu un evento e dove si chiuse in poche parole tutta la mappa tutto il capitolo 1 di fortnite per terminare con il tanto amato barra odiato buco nero beh ragazzi io credo questa è un'altra inquadratura siamo in un post di reddit che sta veramente spopolando in queste ultime ore devo dire che la somiglianza oltre che essere nettamente interessante è anche altrettanto strana perché non ha senso che ci sia una cosa del genere in quel punto vicino a dove c'era il vecchio durburger sarà una coincidenza non lo sarà io penso che qualcosa voglia dire una roba del genere ora non so se per caso possiamo collegarlo alla season 2 ma quello che so di per certo è che manca davvero pochissimo vorrei lasciare a voi le idee su quanto potreste tirar fuori pensando a quello che state vedendo e a un possibile collegamento con la season 2 io per oggi vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi siamo in live sulla piattaforma viola ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti